Come vuoi tu? Posso chiedervi salutare Cine Mio? Cine Mio, certo. Questa è facile. Questa è facile, bravo. E come la facciamo questa? Insieme, ciao Cine Mio. In coro? In coro? Uno, due, tre. Ciao Cine Mio! Così? Sì. Allora, vorrei complimentarvi con tutti voi per l'eccesso lavoro. E avrei delle domande da fare, ovviamente. Inizio con i protagonisti. Allora, tra i vostri personaggi c'è molta alchimia nel film, ma anche tanti dissapori. Come è stato a lavorare insieme e come avete lavorato sul personaggio? Guarda, l'alchimia che tu riscontri nei personaggi, io mi sento di dire che c'è anche tra di noi. Nel senso, noi ci siamo trovati, parliamo più o meno lo stesso linguaggio. Parlo per Ludovica, ma mi rivolgo anche agli altri colleghi. Abbiamo proprio creato un gruppo, ci siamo conosciuti tra di noi. Si è creata veramente un'alchimia che noi, forse in maniera inconsapevole, non in maniera proprio voluta e ricercata, ma in maniera inconsapevole, l'abbiamo poi trasportata, l'abbiamo portata sul set attraverso i nostri personaggi. La creazione del personaggio, ovviamente, tramite la lettura del copione, quindi, insomma, figurarsi delle cose, ricevere delle informazioni dal regista, dall'autore. Io, a me piace vederla in questo modo. Quando affronto un personaggio è come se ci dialogassi, è come incontrare una persona nuova. Io incontro te, ci vediamo per la prima volta, ti ascolto e ascolto qual è la tua esperienza di vita, chi sei, no? Sono pronto a ricevere questa storia e poi cerco di farla in qualche modo mia. Perfetto. Invece, volevo chiedere inoltre come tu hai affrontato il personaggio e l'evoluzione, perché all'inizio Marta è temeraria, senza paura, ma negli ultimi dieci minuti abbiamo visto che pure lei... È stato, diciamo, un passaggio molto delicato, soprattutto per il fatto che anche nella prima parte del film Marta ha un'evoluzione nel senso che è matura, pian piano si inizia ad avvicinare al mondo degli adulti, quindi per me era fondamentale renderla adulta senza perdere quella freschezza che ha nel primo film, che è anche inevitabilmente dovuta al fatto che è adolescente. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo a creare la relazione con il personaggio di Gabriele, quando studiavamo, insomma, pensavamo a come fosse il loro rapporto. In qualche modo, nonostante Marta stesse maturando, per lei era una serie di prime volte, comunque una relazione a distanza, tante nuove avventure, in questo ho ritrovato quel suo ottimismo, quella sua voglia di spronarsi, di auto-espronarsi. A un certo punto, però, tutto questo crescendo, arriva a un momento di crollo. In questo ho ritrovato... ho trovato la Marta matura, perché se nel primo film, in una scena molto simile, aveva ributtato giù tutto con una bella risata, aveva messo una maschera, adesso la maschera se la leva e non ha più paura di affrontare anche tutte quelle altre emozioni che sono negative e che è giusto viverle, insomma. Ok, allora, a regista invece vorrei chiedere come è stato approcciarsi a un sequel di un film e, se è già chiaro, il finale dell'ultimo capitolo e se ci sarà ancora lei a dirigerlo. Assolutamente sì. Allora, intanto è stato bellissimo prendere il testimone in questa staffetta. Diciamo che c'è stato, è stato molto bello, molto interessante. Io ho amato il primo film e quindi è stato facile per me inserirmi in un prodotto che già mi piaceva, che mi ero già innamorato dei personaggi, eccetera. Per il terzo film noi abbiamo in realtà, sì, sì, è già finito di fatto. Abbiamo girato contemporaneamente, abbiamo girato tutti e due i film in contemporanea e sì, abbiamo, praticamente abbiamo ieri, abbiamo concluso le ultime elaborazioni anche del terzo film. Quando uscirà il terzo, se si può dire? Non so se sarà per San Valentino, non so. Adesso questa è una cosa che bisogna chiedere alla produzione, non mi sbilancio. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a voi. Sul più bello. Grazie mille.